Devo dire che è stato un incontro molto proficuo, hanno partecipato persone che sono attente al decoro della città, mi ha fatto molto piacere che hanno dato delle idee e anche delle proposte, però quello che emerge purtroppo è che tante volte è il cittadino che non è educato a tutto ciò che è il decoro, quindi dobbiamo lavorare, migliorare sicuramente la comunicazione in questo senso e dobbiamo tutti amare di più la nostra città perché appunto nel 2024 sarà capitale della cultura, quindi questo osservatorio che io ho aperto l'ho fatto proprio per alzare l'attenzione. È vero che noi come Comune dobbiamo assolutamente migliorare alcuni punti della città e dobbiamo stare attenti ad esempio alle fioriere, alle biciclette che vengono lasciate sparse in tutta la città oppure anche i bidoni della spazzatura, dobbiamo stare attenti sicuramente anche noi come Comune e coordinarci, quello che ci è stato richiesto dall'osservatorio, l'importanza del coordinamento tra assessori, anche perché io mi occupo del decoro, però quando parliamo di decoro parliamo anche di opere pubbliche, parliamo anche di partecipate come Aspes, Marche Multiservizi, quindi tutti si devono mettere in moto ma per primo deve essere il cittadino, anche perché oggi nelle varie criticità che hanno fatto presenti i cittadini è emerso le cicche delle sigarette in terra, come ripeto l'abbandono delle biciclette oppure i bisogni degli animali nelle vie secondarie del centro o l'abbandono del proprio rifiuto in vie secondarie per non farsi vedere, ecco tutto questo deve essere educato secondo me il cittadino, quindi dobbiamo fare una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini pesaresi e noi per primi come Comune è chiaro che dobbiamo dare il buon esempio, iniziare quindi delle azioni che vadano nella sistemazione della città, ad esempio ci siamo accorti anche da tutti i documenti che mi hanno portato e mi ha fatto molto piacere, il quartiere centro ha lavorato tantissimo, anche la consigliera Miranda Paolucci si è data da fare in questo anno portandomi tutte le segnalazioni, le fotografie e quindi abbiamo anche chiesto la rimozione di alcuni chioschi sfitti da anni che non aveva senso che rimanessero senza un'apertura e poi anche il lavoro che è stato fatto con il quartiere dove abbiamo fatto una mattina tante fotografie dove ci siamo rese conto, concordo con i cittadini che vivono in piazzale Primo Maggio che assolutamente dobbiamo migliorare quella zona però ricordo anche a tutti che adesso abbiamo questa opportunità del CTE, quindi la casa delle tecnologie emergenti quindi dovremmo anche cercare di puntare sulla tecnologia per andare a migliorare quegli edifici che ancora non sono stati ristrutturati o sono da sistemare.